Un vero e proprio arsenale, ma soprattutto numerosi reperti archeologici risalenti tra il VII e il IV secolo a.C., tutto sequestrato dai carabinieri a Dordona nel Foggiano. Quattro fucili, cinque pistole e centinaia di munizioni insieme ai reperti archeologici sono stati trovati durante una perquisizione compiuta in contra da cavallerizza nel podere di Angelo Cordisco. Il 51enne è stato arrestato per detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione, violazione in materia di ricerche archeologiche e illegito impossessamento di beni culturali. I militari hanno trovato all'interno di un veicolo dismesso un fucile semi-automatico con la canna mozzata, risultato rubato a carapelli a fine 2014, due fucili monocane, una doppietta con matricola brasa e un centinaio di cartucce di vario calibro. Si è acquistata anche una pistola a tamburo e 200 proiettili e altre quattro pistole a salve, prive del tappo rosso. Ma la vera scoperta sono stati numerosi reperti archeologici provenienti da scavi clandestini, una vera e propria collezione di grande valore, composta di 65 vasi di varie forme, ceramiche, olpi, oinoicoi, brocche, pendenti in avorio, ceramiche e bronzo, vari monili in bronzo, tra cui fibule, armille e anelli e 34 pesi per telaio.